Buongiorno e benvenuti nel vostro angolo di paradiso. Oggi siamo a Torre a Mare, all'interno di un residence esclusivo con portierato e campi sportivi. Presentiamo una straordinaria opportunità di possedere una villa a schiera impeccabile e ben curata. Situata nel rinomato Victor Park, questa villa offre una tranquillità senza pari e un facile accesso alle comodità urbane. Entrando troviamo il luminoso salone accogliente, che offre spazio per rilassarsi e intrattenere gli ospiti, con accesso al giardino interno ed esterno. A destra troviamo una cucina spaziosa e funzionale, perfetta per gli amanti della cucina e per riunioni familiari. A sinistra troviamo la zona notte, con tre camere da letto accoglienti, ideale per garantire il massimo comfort e privacy. Due bagni, uno con vasca e l'altro con doccia, per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia. Godetevi il piacere di vivere all'aria aperta con un ampio giardino di 300 metri quadri circa e un patio, con alberi da frutta e oliveti, perfetti per momenti di relax e divertimento all'aperto. La proprietà include un impianto fotovoltaico per un risparmio energetico e un comodo box auto di circa 22 metri quadri e un parcheggio condominiale per un'ulteriore comodità. Questa villa offre un'opportunità unica di vivere una vita di lusso e comfort, circondati dalla bellezza naturale di torre a mare. Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria occasione. Contattaci oggi stesso per prenotare una visita e scoprire il vostro nuovo rifugio di famiglia. Ciao, alla prossima!